Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati Presonus Studio One sugli altri software e sulle tecniche di audio mixing e mastering sono disponibili sul sito proaudiolearning.com. Non dimenticate inoltre di iscrivervi al canale cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Tutti i link sono in descrizione. Ciao a tutti ed eccoci ritrovati ancora una volta nella consueta conclusione della stagione dei video del mio canale e in questo caso ci occupiamo dei plugin che ho utilizzato di più nel 2021. Alcuni di essi li utilizzavo già nel 2020 ma non potevo parlarne per motivi di copyright e documenti di riservatezza che avevo firmato ma li abbiamo visti in azione durante l'anno e ne vedremo anche altri che oggi vi presenterò e che saranno poi nei prossimi video che farò sempre su questo canale. Andiamo oggi a vedere che cosa ho utilizzato di più quest'anno. Troveremo alcuni plugin sempre presenti, troveremo altri plugin nuovi che non erano presenti nel mio workflow ma che grazie alla funzione appunto di Studio One favoriti come vediamo ho potuto comunque catalogarli facilmente e anche richiamarli ovviamente molto velocemente all'interno di Studio One. Ovviamente adesso li ho tutti aperti, il processore sta esplodendo ma vediamoli per categorie uno alla volta. Grazie alla nuova funzione di Studio One che abbiamo visto in un altro video ossia il plugin app posso ora utilizzarne di più rispetto al 2020. Infatti non a caso proprio la funzione che permette a Studio One, vediamola qui, attivabile all'interno delle preferenze enable plugin app permette a Studio One di non utilizzare i plugin che non vengono influenzati dalla traccia audio per cui metterli a riposo durante le fasi di inutilizzo. Questo permette e questo consente ovviamente al processore di rilassarsi non tenendo il processing sul plugin aperto anche se non ci passa audio all'interno. Partendo dagli effetti come vediamo ho l'onnipresente H3000 dell'Eventide che utilizzo tantissimo nella mia catena effetti soprattutto sulle voci e su alcuni riverberi di ambiente oltre che ai delay per poi arrivare al PSP Echo anche questo molto molto utilizzato oltre a quelli presenti in Studio One soprattutto dalla versione 5 il delay l'analog delay ha aggiunto un nuovo tipo di colore ai plugin di delay che utilizzavo precedentemente oltre alle funzioni appunto come vi dicevo di drive e la possibilità di avere un width più ampio rispetto al solito quindi uno strumento molto molto simile al delay appunto classico della Roland e che posso utilizzare all'interno di Studio One di default. Oltre questo l'onipresente Dead Things che purtroppo non verrà più aggiornato da Beatskill e che sarò costretto ad abbandonare nelle prossime versioni di sistemi operativi e soprattutto di Studio One in modalità nativa M1 a meno che appunto non lo possa utilizzare attraverso la versione Audio Unit in modalità Bridge come fa appunto M1 di Apple. Arriviamo poi alla sezione dei delay il primo che spesso utilizzo è Open Air sempre di Presonus e tutte le librerie con Vology che fanno parte del pacchetto Sphere. All'interno ho comunque a disposizione i campionamenti di alcuni riverberi storici molto pratici da prendere al volo come appunto il 5000, il 480 eccetera eccetera mentre appunto nella sezione Convology trovo sempre i campionamenti quindi le risposte in impulso dei riverberi classici appunto il 240 eccetera eccetera. Rimanendo sempre in campo delay sempre riverberi digitali il mio onnipresente PSP2445 che utilizzo principalmente per creare degli ambienti per le voci che sentite poi nei miei mix. Quindi è un plugin che utilizzo tantissimo proprio per riavere l'ambiente intorno agli strumenti acustici e che è appunto un'emulazione del classico EMT. Arriviamo poi al PSP Nexcellence che è sempre un riverbero meccanico molto utile per alcuni effetti di riverbero particolari lo uso moltissimo sui sintetizzatori e poi sempre di PSP lo Springbox anche questo riverbero a molle molto utile sulle tracce di chitarra elettrica e a volte anche sulle voci per avere un effetto vintage. Arriviamo così al Mangleverb sempre di Eventide super utile per avere degli effetti di riverbero estremamente avanzati e moderni soprattutto quelli relativi allo shimmering. Lo stesso lo faccio utilizzando anche Spark di UV che avete già visto in altri video per arrivare poi appunto al T-Verb sempre di Eventide e che lavora appunto in maniera egregia sulla ricreazione degli ambienti esterni. Un altro riverbero che poi ovviamente ritrovate tantissimo nei miei preset e nei miei video è quello relativo a FabFilter ed è appunto il Pro R che avete poi ascoltato in lunga parte su tutte le mie ultime produzioni e soprattutto per quanto riguarda gli ambienti della voce e dell'orchestra. Arriviamo così al trattamento delle batterie. Ciò che utilizzo di più, che ho utilizzato di più quest'anno sulle batterie ovviamente è l'Addictive Trigger sempre di XLN Audio che utilizza tutte le librerie contenute all'interno dei miei pacchetti di Addictive Drums. Infatti poi qui dentro posso triggerare ben quattro strumenti contemporaneamente in base appunto a una threshold di intervento e appunto utilizzare le librerie contenute all'interno dei miei pacchetti che ho acquistato appunto di Addictive Drums. Arriviamo così sempre da XLN al Drum Shaper per avere appunto una sorta di gluing sulle batterie anche questo molto utile per questo genere di effetti per poi passare al classico gate e questa volta scelgo sempre il Pro-G di FabFilter perché è un gate estremamente avanzato molto molto pratico. A differenza del gate di Studio One non mi permette di esportare una traccia MIDI per cui se ho bisogno di creare un triggering che poi diventi anche MIDI lo posso utilizzare all'interno del gate di Studio One. Anche questo sempre presente il Kickstarter di Nick Romero molto utile per avere appunto un filtro immediato di gating su ogni tipo di samples in questo caso per creare appunto quell'effetto di sidechain su qualsiasi strumento anche senza avere a disposizione una cassa che vada in sidechain. Questo molto utile per creare appunto dei sidechain velocissimi su tutti i brani e anche su tutte le tracce soprattutto di synth o anche di chitarra. Sempre da XLN Audio il RC20 Retro Color che anche questo utilizzo per poter aggiungere colore e distorsione ai miei tracce non solo di batteria quindi lo utilizzo anche su altri tipi di strumenti perché comunque come sapete adoro colorare le tracce quindi renderle molto personali ed infine il precision time align di eventide appunto per l'allineamento dei campioni e del delay time appunto molto molto utile in fase di mix soprattutto delle batterie. Arrivando nello spazio delle chitarre parto ormai da Umpire che utilizzo tantissimo sulle mie tracce di basso proprio grazie al tipo di strumenti e di cabinet che mette a disposizione mi permette di scegliere appunto tra i pacchetti classici avendo Sphere per arrivare fino all'iGain che fa parte di un pacchetto supplementare sempre di Umpire che ovviamente è gratuito per chi ha l'abbonamento Sphere. In questo caso l'Ampeg e la cassa relativa suonano veramente veramente bene e li uso tantissimo sulle tracce di basso reale mentre prima utilizzavo Amplitube 4 mentre ho delegato Amplitube 5 per le chitarre pulite adoro i clean della IK Multimedia rispetto a quelli appunto di Guitar Rig ad esempio e quindi utilizzo tantissimo le versioni Fender degli ampli di Guitar Rig e di Amplitube mentre poi Guitar Rig lo delico appunto alla sezione distorsioni e quindi tutto ciò che riguarda il routing particolare delle casse e degli effetti che posso utilizzare all'interno di Guitar Rig poi utilizzo anche dal vivo e soprattutto come vi dicevo la sezione effetti quindi tutto ciò che riguarda distorsioni e in particolar modo i delay e l'utilizzo dei delay e l'utilizzo del routing dei vari delay all'interno sempre di Guitar Rig. La sezione comp è molto ricca ne uso tantissimi e in diverse situazioni partiamo dal classico che uso sempre Aquamarine che è l'emulazione molto ben fatta dello Shadow Hill per passare all'Ivory che è appunto l'emulazione dell'equalizzatore dinamico della Maselec in questo caso emulato egregiamente per arrivare al PSP Bass Presser che è appunto un derivato della tecnologia di Vintage Warmer che scalda e utilizza un algoritmo molto molto efficace per rendere più analogica la traccia. Passiamo poi a Array questo è uno dei miei compressori limiter preferiti che utilizzo molto sulla voce per dare un colore e una presenza sulle medio basse interessantissima. Il mio preferito è onnipresente sulle voci PSP Fat Presser della PSP che emula l'1176 in maniera egregia e che mi dà la possibilità di lavorare in stereo in modalità slincata, un blending sul file e un high pass filter in 6 chain molto veloce, estremamente utile, leggero sul processore, ha un suono eccellente e ricorda esattamente il timbro medioso del compressore FET classico della Universal Audio. Per arrivare poi infine al Vintage Warmer, in questo caso la nuovissima versione che è anche scalabile quindi possiamo scegliere di modificare l'interfaccia. Come sappiamo Vintage Warmer non emula nessun tipo di hardware analogico ma crea una sensazione analogica che è ormai storica quindi è come se fosse un hardware, come se fosse un plugin storico da utilizzare in caso di necessità per aggiungere armoniche e compressione di un certo livello su tantissime tracce anche sui master. È uno di quelli da non lasciarsi mai scappare quando si trova in offerta. Continuando arriviamo al Zen 3, ossia l'emulazione del console SSL da parte di Acustica Audio, molto utilizzato il Bass Pressor che ovviamente accendo quando non ho a disposizione quello hardware e lo Slam Doe di BeatSkill. Di BeatSkill poi utilizzo diverse cose come avete visto perché non ricordano hardware di nessun tipo e hanno delle feature molto interessanti tra cui appunto la possibilità di aumentare la distorsione armonica e quindi colorare in un certo modo particolare le mie tracce. Lo stesso dicasi per Slam Pro sempre di BeatSkill e ovviamente lo Slam XL che è la versione successiva e questo ovviamente lavora molto molto bene in saturazione. Vi consiglio di scaricarli e provarli perché anche se non sono emulazioni hardware classiche hanno comunque delle caratteristiche molto interessanti. Ritorniamo su Acustica Audio, questa volta su Lairing Comp, quindi compressore da mastering molto raffinato che avete visto anche in altri video e torniamo effettivamente su BeatSkill perché lo stesso marchio è gestito dalla stessa società Tone Empire per avere a disposizione un altro tipo di compressione però simile all'analogico. A volte scelgo uno o l'altro in base anche al risparmio CPU perché magari il processore ormai è troppo stremato da alcuni plug-in per esempio di Acustica Audio e switcho appunto su dei plug-in più leggeri che hanno più o meno lo stesso risultato. Dicasi la stessa cosa per T-Rex, in questo caso il vari modi T-Rex è stupendo, vi consiglio di provarlo come anche il Precision Limiter che si trova sempre nella suite di T-Rex e che rappresenta effettivamente il 66309 della Neve. Andiamo avanti. Arriviamo così alla mia scelta riguardante i plug-in di Channel Strip. In questo caso il mio preferito che sto utilizzando tantissimo è Infini Strip di PSP perché mi consente di non appesantire il processore, di lavorare molto come se fosse appunto una Channel Strip complessissima, quindi molto particolare e complessa, da poter usare appunto con i miei preset all'interno delle vostre song e poter appunto godere di ciò che ho fatto. Ricordatevi che poi ogni mio preset indica il valore di RMS con cui bisogna entrare all'interno, quindi facciamo attenzione a questo tipo di valore scritto appunto a fianco al preset. L'altra caratteristica unica di questo plug-in è che non introduce latenza, quindi posso utilizzarlo in modalità di Zero Latency Monitor e quindi dare al cantante ad esempio la sensazione di avere una Channel Strip molto accurata senza dover necessariamente sacrificare latenza e quindi non poterlo utilizzare in monitoring. Arriviamo al Fat Channel di Studio One. Questo onnipresente ormai in MMX lo uso tantissimo grazie anche a tutte le emulazioni che mette a disposizione Presonus grazie all'abbonamento Sphere come ad esempio appunto le sezioni di emulazione valvolare, il classico SSL eccetera eccetera. Molto valide, ovviamente non sono all'altezza di quelle d'acustica audio ma sono estremamente leggere e velocissime da utilizzare all'interno appunto dei mix e dei master. Lo stesso dicasi per la sezione di EQ dove appunto troviamo la modalità Pulltech eccetera eccetera. L'abbiamo già esplorato in un altro video. Arriviamo così a Gold 4, il plugin che adoro di più sugli strumenti acustici quindi chitarre acustiche, pianoforti, tutto ciò che riguarda l'ambiente acustico e che ha bisogno di un ritocco molto particolare che non sia eccessivamente fastidioso. Anzi grazie all'emulazione dei vari EQ posso scegliere di utilizzare EQ particolarmente colorati e quindi che mi diano quella sensazione di distorsione armonica su alcune frequenze. Ovviamente eccezionale anche la sezione di limiter e la sezione di emulazione dei bass che utilizzo tantissimo proprio per riascoltare il suono passando attraverso un bass specifico dell'emulazione NIV, super consigliato. L'ultimo in casa l'acustica audio che sto usando parecchio è Black che grazie all'emulazione dei suoi preamplificatori posso aprire su tantissime tracce audio e soprattutto sul nuovo M1 ne posso aprire su centinaia di tracce senza dover rischiare di uccidere il processore. Questo mi permette di avere l'emulazione di vari pre, di varie stazioni di pre come vediamo prese dagli altri plugin come ad esempio Pink se volessi avere una emulazione di pre API su tutto il mixer eccetera eccetera. Poi passiamo su Cola, l'altro mio channel strip molto adorato e che ricorda appunto il CADAC e le sue caratteristiche timbriche anche questo splendido nei suoi high pass filter e low pass filter da provare anche la sezione di comp eccezionale e molto cristallina meno invasiva di quella SSL sul Bassmaster. Non dimentichiamoci dei plugin di Hornet made in Italy che appunto contengono delle chicche molto interessanti a prezzi estremamente competitivi e che spesso suonano e lavorano molto molto meglio di plugin più blasonati e che spesso vedo craccati all'interno di tantissimi tutorial. Lo stesso dicasi di tantissimi plugin gratuiti di Melda Production quindi anche questi troviamo tantissime applicazioni. Per quanto riguarda invece i plugin che non emulano l'hardware quindi quei plugin che esistono ma che non ricordano alcun tipo di hardware ho trovato molto utili le produzioni di United Plugin. In questo caso il Firecharger, il Firecobra e il Firemaster che uso molto a volte per colorare alcune sezioni di mastering magari per aggiungere appunto un po' di distorsione sulle basse o soltanto un po' di aria sulle alte. Lavoro in maniera egregia ovviamente non utilizzo i loro preset e come anche il Firepresser che funziona appunto da compressore e saturatore nello stesso plugin. Stesso dicasi per FabFilter Saturn 2 un capolavoro assoluto per quanto riguarda il controllo della distorsione multibanda. Non esiste master o mix dove non lo utilizzo e che ha preso il posto appunto del Saturn 1 che avete visto l'anno scorso. Stesso dicasi per FabFilter Simplom è uno dei plugin di filtering più utilizzati nei miei mix proprio per il tipo di suono molto analogico, di emulazione molto analogica che mi permette appunto di creare high pass filter e low pass filter in maniera molto rapida. Sempre arrivando poi nella sezione degli equalizzatori partiamo da FabFilter e vediamo il ProQ3 che è onnipresente e praticamente super utile in qualunque situazione. è forse uno dei plugin di equalizzazione più belli esistenti al mondo e che negli anni migliora e gradualmente rende utilissimo la correzione delle imperfezioni all'interno dei master o dei mix e appunto anche l'utilizzo per la pulizia di alcune zone delle frequenze. È molto cristallino, non colora assolutamente nulla e funziona egregiamente sia in zero latency sia in linear phase che vi traconsiglio anche se consuma un po' più di processore. Lo stesso dicasi per Green a cui ho partecipato nella costruzione ed è l'emulazione del mio preferito GML, un equalizzatore da mastering anni 80 e estremamente colorato. Adoro tantissimo proprio il suo lavoro sulle frequenze medio-alte. Per passare poi al PSP E27, emulazione dell'hardware Avedis che avete visto tantissime volte nei miei tutorial. È anche questo uno dei plugin must have da avere sempre a disposizione nelle fasi di mix e di mastering. funziona sia in modalità stereo sia in modalità MS. Arriviamo poi alla sezione riguardante i Pultec e Purple di Acustica Audio ha un'eccellente emulazione. Non soltanto riferita al Pultec stesso quanto al tipo di funzioni di equalizzazione che rendono più colorate e più presenti alcune frequenze nel momento in cui interveniamo. Lo stesso dicasi per la versione proposta all'interno del pacchetto ultramarine quindi in questo caso la versione ultramarine model A27 della Fairchild. Questo è anche questo un plugin must have e la sua enfatizzazione sulle frequenze basse è incredibilmente bella e musicale quindi ve lo straconsiglio. Usatelo con parsimonia ma vi darà tantissimo colore e tantissima tridimensionalità ai vostri mix. Un nuovo arrivato pensato è Q2 molto utile per la per l'equalizzazione delle frequenze medio alte delle voci soprattutto pensato per l'uso sulle voci ma funziona benissimo anche sul master e sul bass master. Andiamo ora nella sezione un po' più dedicata al mastering e passiamo per Diamond l'equalizzatore appunto di studio di MAI da utilizzare insieme a Lift sempre limiter. Di questo mix di hardware creato appunto da Luca Pretolesi è utilissimo nelle sezioni di mix e mastering di carattere digitale quindi più vicino all'uso riguardante la stesura e la creazione di brani di musica elettronica. Suit invece è il plugin che tutti desideravano e volevano da decenni. Sicuramente uno dei game changer del 2020-2021 uno dei plugin più belli e utili in assoluto corregge le imperfezioni dei mix. Tutti gli errori che spesso chi lavora in home recording commette e quindi permette una pulizia ed un controllo sulle frequenze impagabili. Ho fatto un video dedicato esclusivamente a Suit vi consiglio di guardarlo ed è ecco ed è uno dei plugin che mancavano e che non erano mai stati pensati finora. Dopo di questo sono stati appunto espressi altri plugin di simile entità come ad esempio Spiff sempre di Hawksound e ovviamente l'ultimissimo Split EQ di Eventide. Stesso discorso per ciò che riguarda ad esempio Guilfos. Sia la versione master sia la versione da mix permettono un controllo dinamico sulle armoniche all'interno appunto del nostro mix e del nostro master. Sono dei plugin game changer totali ci permettono appunto di lavorare in maniera molto tranquilla e molto dettagliata su alcuni danni provocati appunto da mix errati e mix appunto che hanno bisogno di un bilanciamento più invasivo rispetto al classico equalizzatore. Gain Station è ovviamente un altro plugin di distorsione armonica in questo caso è proprio un plugin di distorsione vero e proprio creato per la musica elettronica e molto efficace sugli strumenti elettronici appunto quindi sintetizzatori batterie elettroniche di questo genere. E il nuovissimo Climax P42 della Pulse Modulator un plugin molto molto interessante che vedremo nei prossimi video e che fa riferimento sempre a un tipo di distorsione armonica e compressione da utilizzare all'interno delle nostre tracce. Non è ancora ben definita l'interfaccia come vediamo, abbastanza spartana, ma l'utilizzo che se ne può fare è molto interessante e lo vedremo nei prossimi video tutorials. Arriviamo così ad Unisom che avete già visto in un altro video uno dei compressori più belli e complessi che esistano da applicare al master. È difficile da utilizzare, possiede anche dei preset molto interessanti da cui possiamo partire ma ha un controllo decisamente intelligente e molto pratico sui tre diversi tipi di bande di intervento. Ha al suo interno appunto gli algoritmi di oversampling e lavora sia in modalità LR che MS. Trovate il video sul mio canale, molto complesso, molto bello, molto complesso, molto utile e incredibilmente efficace sui mastering. Arriviamo poi nella sezione Vice, la mia preferita che avete già visto in tantissimi tutorial da Softube. L'emulazione migliore in assoluto è stata appunto fatta da Vice in collaborazione con Vice stessa per la ricreazione del classico DS-1, uno dei compressori da mastering più belli mai creati al mondo. È leggermente diverso nella evoluzione riguardante ad esempio Unisum ma permette anche un controllo diverso sul dithering al suo interno molto molto bello e che vi consiglio di utilizzare sui vostri mastering anche se ci saranno delle nuovissime sorprese nelle prossime release di studio One. Stesso discorso per il Maximizer, sempre device, super bello, super utile e che lavora in modalità con cinque algoritmi diversi all'interno tra cui anche quello di DSing, estremamente utile sulle batterie quanto sulle voci, forse il miglior algoritmo di DSing insieme a quello proposto da Suit. Ma nella suite device che vi consiglio di acquistare per intero perché è molto più economica che acquistare ogni singolo plug-in, troveremo soddisfazione e super professionalità oltre che qualità estrema nell'utilizzo di questi plug-in soprattutto se utilizzati a 96 kHz rispetto appunto all'utilizzo a 44 o a 48. In quel caso quindi a 96 kHz si comportano esattamente come la macchina originale. Novità poi incredibile che si sta utilizzando molto questi due anni è proprio Audio Grider, un sistema gratuito per il momento ma che permette l'utilizzo di plug-in su un altro computer, quindi un routing esterno verso un'altra macchina per alleggerire il carico del processore, non soltanto quindi per gli instruments ma anche e soprattutto per i plug-in audio. Il pacchetto era bundle poi insieme a quello di Accusonus ci permettono di avere a disposizione dei nuovissimi algoritmi di correzione e restauro come The Clipper, The Hum, eccetera eccetera. Per chi non vuole comunque acquistare le versioni più professionali prodotte da Isotope come ad esempio RX che avete già visto in azione su uno dei miei video. Lo rivedremo molto più spesso in altri video perché comunque gli algoritmi di Isotope sono incredibilmente efficaci e molto molto professionali. Arrivando sul Bassmaster continuo a preferire il controllo MS che ho a disposizione con Brainworks XL V2 perché proprio la sezione mid è separata in due sottosezioni low e high oltre al crossover frequencies qua sotto molto utile per la creazione di vinili, l'avete visto nel tutorial sui vinili. L'audio immersivo sta prendendo piede quindi nel prossimo anno vedremo diversi sistemi di mixing e plug-in mixing con l'audio immersivo. Finora utilizzavo DRVR Pro molto bello sempre di plug-in alliance e utilissimo appunto per lavorare all'interno del binaurale quindi il sistema binaurale ovviamente possiamo lavorare nel sistema ambisonico e nei vari altri formati fino a 16 canali contemporaneamente. Sempre presente anche, sempre sotto sezione dell'eventide, Newfangled Audio Elevate che avete visto in un tutorial tempo fa ma tuttora molto efficace e di facilissimo utilizzo proprio per il ritocco dei transienti, per il recupero dei transienti e per il tipo di enfatizzazione e lo spettral clipper che io adoro in grado di dare come game station in questo caso un eccellente clipping su tutte le frequenze. Quindi un'alternativa anche a game station per chi vuole provarli vi consiglio di scaricare entrambe le demo e provarli. Ovviamente pipeline di studio one è il mio la mia arma segreta per interfacciare tutto l'hardware esterno che possiedo e che mi posso permettere di utilizzare anche soprattutto in blending quindi una possibilità di avere in parallelo l'hardware esterno cosa veramente gestita in maniera egregia da studio one col suo latency compensation non ho problemi di latenza con l'hardware esterno. Come vi ho già accennato t-rex mette a disposizione non soltanto le emulazioni dei vari hardware che avete visto prima ma per chi non possiede vice suggerisco lo stealth limiter molto molto vicino a quello di vice e che ovviamente viene considerato l'emulazione del vice e che ho utilizzato per diversi anni prima dell'uscita del pacchetto vice di soft tube sempre consigliato poi per chi ama l'only one avete già visto il video sul nuovissimo Howie Weinberg mastering console e quindi per chi adora avere un plugin only one per lavorare sul mastering ma sa dove mettere le mani questo è sicuramente un must have stesso dicasi per nebula 4 ormai sottovalutato nebula 4 mette a disposizione delle librerie incredibilmente efficaci di emulazione hardware lo uso tantissimo in modalità per esempio rose fat o altri tipi di emulazioni interne che troviamo in modalità gratuita sempre dentro nebula e che appunto danno quel sound analogico che spesso ricerchiamo e che possiamo avere in un pacchetto unico con tantissimi tantissimi emulazioni di altissima qualità che vanno appunto dai compressori agli equalizzatori filtri preamperi verberi eccetera eccetera per cui chi non vuole utilizzare i pacchetti acqua separati nebula mette a disposizione una vastissima quantità di librerie molto efficace molto utili stesso dicasi per l'altro all in one molto famoso che è ozon 9 dedicato a chi non sa fare mastering per cui chiaramente grazie al master assistant possiamo cercare di capire cosa aggiustare secondo il suo specchio il nostro mic all'interno del nostro mix e poi magari tornare nel mix e cercare di farlo noi però comunque un buonissimo punto di partenza e un ascolto del nostro master più obiettivo rispetto magari ad un ascolto falsato in una stanza non trattata con speaker poco efficaci avete già visto poi tantissimi tantissimi tutorial riguardo sienna e che è diventato come avevo previsto un must have per mix in cuffia è forse il sistema migliore in assoluto per poter missare in cuffia grazie sia all'emulazione degli ambienti ad altissima risoluzione sia la correzione estremamente dettagliata e rifatta appunto da acustica audio e che permette un controllo definitivo per chi desidera fare mix e mastering in cuffia lo avevo già accennato all'inizio dell'anno e le e ciò che avevo previsto si è verificato sienna è stato un super successo ed è molto apprezzato dai fonici professionisti di tutto il mondo ne vedremo altre applicazioni successivamente come ad esempio è stato in questo caso specifico parlando di riverberi il nuovissimo silver che proviene dalla tecnologia di sienna e che grazie a quel sistema di campionamento degli ambienti è stato possibile ricreare appunto ambienti cabinet e situazioni appunto teatrali molto realistiche e che danno al nostro mix il riverbero a risposta di impulsi più bello che esista in questo momento al mondo e più dettagliato lo avete già visto in un video tutorial apposito dedicato proprio a silver in compagnia appunto di del suo ideatore marco vannucci proprio grazie alla tecnologia di sienna appunto vedremo anche una nuovissima versione di sienna system wide per il mix in surround e per il mix in atmos con le cuffie arrivando poi alla sezione metering abbiamo il level meter di studio one che ha fatto enormi passi in avanti per quanto riguarda il dettaglio il classico loudness penalty per avere appunto un riscontro di ciò che accadrà poi sulle piattaforme di streaming come anche il dynamater sempre di meterplags per passare poi appunto al nugent audio master check utilissimo e che continuo ad usare in maniera efficace con tutti i miei mastering stesso dicasi per il triple meter per chi desidera utilizzare dei meter in stile analogico questa volta di psp è molto efficace e ovviamente la versione pro di you lean loudness meter anche questo molto utile per l'intercettazione dei true peak e per la gestione appunto delle varie dinamiche di loudness all'interno stesso dicasi poi per insight 2 sempre di isotope questi sono i plugin che sto utilizzando che ho utilizzato per tutto il 2021 e che spesso trovate recensiti all'interno del mio canale quindi per chi è più curioso basta semplicemente cercare il nome del plugin dentro la ricerca del mio canale per avere una recensione completa e l'applicazione pratica su alcune tracce audio vedremo poi un'altra sezione riguardanti i plugin instruments che ho utilizzato più quest'anno e poi ritroveremo le nuove recensioni direttamente da gennaio spero che questo video vi sia stato utile vi aspetto ai miei seminari al corso professionale presso il mio studio nei corsi online sul sito pro audio learning punto com affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite oltre a nuovi video esclusivi ogni mese continuate a seguirmi su facebook youtube e music off non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale patreon che trovate in descrizione se vi è piaciuto cliccate subscribe e attivate la campanella per il momento è tutto ciao a presto ciao a presto ciao a presto